Per l'estate le 25 macellerie del gusto della provincia di Vicenza propongono per i piatti pronto cuoci i saporiti di pollo, una pietanza sfiziosa di facile preparazione. Ad idearla è Luigino Peretti della storica macelleria Peretti di Montecchio Maggiore. I saporiti di pollo è un piatto sfizioso estivo che abbiamo pensato per l'estate. Il pane è fatto con pancetta, pollo, salsiccia e salvia. È un involtino, si cucina in padella per 40 minuti, va sfumato con un po' di vino bianco e servito con un po' di verdura al tegame.